La situazione sta diventando drammatica perché oltre al fatto di avere una portata limitata e le piogge stanno mancando, abbiamo altri due fattori molto importanti. La temperatura è più alta di 2-3 gradi, in alcuni punti anche 4 gradi rispetto alla media del periodo e manca completamente la risorsa della neve e quindi il magazzino e lo stoccaggio in montagna. Quindi abbiamo delle aree che possono rimanere senza acqua e allora bisogna innescare uno spirito di sussidiarietà tra i territori per cui i prelievi vanno controllati, vanno verificati e dobbiamo portare acqua a tutti. Altrimenti dobbiamo intervenire immediatamente con la protezione civile e quindi col Dipartimento. La situazione è davvero molto delicata.